musica 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 oh Giovan dove sei? no no ci dobbiamo vedere ok musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre dormivo ho fatto un sogno mistico. Racconta. Ho sognato noi due e altre persone durante le riprese di un film. E una voce insistente che mi diceva sempre... No, non quella, l'altra. E allora? Tutto qui? Non mi sembra qualcosa di strano. Forse non hai capito. Quel sogno era un messaggio. Dovremmo girare un film. Un film? Ma si obbriaco. Guarda che non sappiamo niente di montaggi, di riprese. Non preoccuparti, qualcosa ci inventeremo. E poi ci manca tutta l'attrezzatura. Microfoni, videocamera, computer. Ho già qualcosa in mente. Allora, ci stai? Ok, facciamolo. Per prima cosa ci serve una telecamera. Conosco a qualcuno che Falca è un monstruo. Ok, ci siamo. Ci siamo sicuri? Ma è tranquillo. Allora? Ma ce l'ha prestata la camera? Amirati. Adesso? tout